Ben trovati con il nostro appuntamento con Rack Magazine, insomma risultati importantissimi che arrivano dal weekend appena trascorso, punti fondamentali per tante squadre del basket di Calabria partendo ovviamente dalla pallacanestro Viora. 35 barra 40 tifosi al seguito, un bel pullman come accaduto la passata stagione a Taranto, la conquista dei playoff e l'obiettivo anche in questo caso, pullman annesso, è ampiamente riuscito. La pallacanestro Viora vince una gara basilare, una sorta di sfida salvezza sul campo del Green Palermo al Palavangano. Si tratta della prima vittoria in trasferta della stagione che arriva a sole due giornate al termine del regione di andata. Dunque Reggio Calabria si stacca dall'ultimo posto raggiungendo il penultimo in compagnia del Bergamo, team che ha ingeggiato proprio prima della fine del 2022 l'ex Edoardo Roveda e ha ovviamente nel suo bagaglio anche un altro ex come Totò Genovese e insieme alla Virtus Ragusa, ovvero la prossima avversaria dei Reggini con sfide in programma domenica l'ore 18 al pallacalafiore. Anche qui c'è un ex, anche perché tra gli Blei, all'area di Antonio Bocchino, milita Franco Gaetano e ci attende veramente un nuovo scontro per provare a fuggire dalle sabbie mobili e per provare a rendere meno di un sogno l'obiettivo di cavalcare l'onda spareggi. Bisognerà mettersi quattro formazioni sotto, non è cambiato nulla in questo senso nonostante la vittoria dei Reggini anche perché ha vinto Capodorlando contro Lumezzane e serve arrivare insomma quattro punti di gap su rispetto all'attuale posizione. Tornando alla gara di Palermo, grandissima risposta di un gruppo dove Radiomercato parla di un possibile trasferimento di Andrea Renzi di ritorno a Trapani in Serie A2. Vedremo anche perché nella prossima sfida Trapani avrà una sfida anche abbastanza complicata e Reggio Calabria invece gioca una gara fondamentale per il proprio cammino. Ci guardiamo il servizio della sfida e poi ritorniamo per parlare del campione di Serie C Gold. Vittoria lieta per i ragazzi di coach Bolignano, vittoria lieta per la palla destro viola, successo per tenere alla larga le voci di mercato sempre più sostanziose riguardante il secondo matrimonio di Andrea Renzi con la sua Trapani in Serie A2. Successo per respirare in classifica, agganciare al penultimo posto il Bergamo degli ex genovese Roveda e la prossima avversaria in Ragusa dove gioca l'ex Franco Gaetano in quel che sarà domenica alle ore 18 al Palacalafiore un vero e proprio sconto diretto. Nulla è scontato, gara tiratissima nel capoluogo siciliano. Area di derby del sud al Palamangano con tifoserie presenti e rumorose da una parte e dall'altra e con un avvio di match che si fa apprezzare e tanto. Gli otto punti in apertura di un Marchini subito caldo per la palla destro viola vengono immediatamente impattati alla tripla di Lombardo dalle ottime scelte di birra alla prima stagionale in quintetto per coach Marco Verderosa. Renzi si scrolla di dosso le difficoltà iniziali. Procurategli dalla corretta lettura difensiale di biancoverdi con aiuti e raddoppi costanti con il tiro da oltre l'arco. Subito è ribadito a Morciano per gli 24 pari. Moltrasio e ancora Morciano aprono il secondo parziale sul più sette per i verdi prima ancora che Marchini, tiratore scelto e Balic, il regista a tutto fare, riportino in equilibrio il match. Il ritmo cala vertigerosamente a metà secondo quarto con la retina mossa soltanto dagli ingressi della panchina per la viola di La Quintana e Provenzani con il riposo dove regna la parità 41 a 41. Guardando i parziali è impressionante il punteggio, equilibrio totale. Il tanto temuto terzo quarto dei verdi di Palermo che nelle precedenti partite aveva praticamente mozzato le gambe ai palermitani comincia nel verso giusto. Con Marchini e Balic ancora segno da oltre il perimetro ma anche con la risposta pronta da parte di Mosciarelli e compagni bravi a trovare forza dall'intensità difensiva. Al ventisettesimo ancora Davide Marchini a conti fatti MVP del match con 23 punti complessivi con 5 su 9 da 3 punti a punire la difesa bianco-verde aprendo il parziale di 11 a 3 che in tre giri di orologio vede Regine mettere la testa avanti e prendere il controllo della gara solo parzialmente mitigato alla tripla sulla Siria nel terzo periodo di Andrea Birra 62-69. L'ultimo periodo viene aperto dalla tripla di Balic che fa malissimo ai palermitani perché è arrivata dopo una stoppata di Giulio Maria seguita da una palla persa non forzata. Dal meno 12 grazie ancora a Birra e ai punti di Marcus Green Palermo sembra riuscire a riprenderla nel finale spegnendosi sul meno 4 a due minuti dalla fine. Sono ancora una volta i gemelli del canestro Marchini e Balic a metterla in sicurezza per Croce Domenico Bolignano e per i supporters che abbandonano così l'ultimo posto in classifica. Serie Cicol Campania vince la Bimo Maschette Rende nel recupero contro il Forio gara dall'esito scontato complice dell'andamento della formazione campana che oltre a tutti gli accadimenti extracististici ha improntato la stagione su giocare esclusivamente con gli under 17 dunque sconfitta a balanga talvolta da record con 160-170 punti per partire anche in questo caso. Non è cambiato molto. Un buon modo per inserire nei ritmi e nelle rotazioni il nuovo innesto Fiusco in arrivo dal Mosciano, team allenato da Marco Verrigni, vecchia conoscenza del basket reggino, giocava al basket rosarmi e oggi è l'allenatore di una delle principali realtà della serie C-Gold parallela rispetto a quella che raccontiamo, raccontiamo il girone campano dove il Power Basket Salerno rilascia De Leo sul mercato ma continua a vincere, vince anche lo sconto diretto contro Guantin Caserta e invece perde ancora il basketball a mezza che rimane a quota due in gradatoria, inserisce il nuovo allenatore Mike Delvecchio per provare a salvare quello che c'è da salvare una stagione veramente molto molto complicata, nata con i migliori auspici del piazzamento verso l'interregionale e l'andamento al momento servirebbe realmente un miracolo, una bacchetta magica per risolvere questa situazione. È arrivata una nuova pedina, Ibra Ba, un playguardia che si andrà a affiancare al pacchetto di un gruppo che realmente dopo le svariate partenze da l'Ucraino Kobbez al giovane Privitera passando per il numero 4 titolare Molinario, arrivando all'esterno titolare Biasic appare adesso molto molto ridotto, quindi sarà il compito di Mike Delvecchio, provare a risollevare gli animi sia tecnici che mentali. Ne succedono di tutti i colori invece in serie C, Sicilia, Calabria ovviamente, campionato Ryan Fatalà, partiamo da Calanzaro che si riscatta alla grandissima contro Gravina, continua la crescita di Denis Vecs sotto canestro, Idem Didiop, una vittoria fortemente voluta ai ragazzi di Max Arigliano e si rialzano dopo la sconfitta subita qualche ora prima contro la capolista a piazza Armerina. Sconfitta onorevole anche per la Viz del nuovo corso Ciccio Romeo, bellissima rimonta dal meno 22 al meno 4 in casa dell'Alfa Catania, nonostante le condizioni del roster ampiamente rimaneggiato la Viz con la nuova guida tecnica, ha mostrato segnali di ripresa in dubbi. Molto bene l'Ucraino Uzun, deve ritrovare ancora la forma campionato Martinez, questo dunker ungherese che promette scintille, ma è chiaro che il basket mercato per rendere competitiva questa formazione in vista dell'impegno di aprire la Coppa dello Stretto probabilmente avrebbe bisogno di almeno 2-3 peline. Una di queste potrebbe essere il capitano Catano Romeo al momento fuori squadra e figlio del coach. Poi prima di parlare del derby dello stretto parliamo della situazione campionato anche perché Piazza Armerina riposa e viene raggiunta in vetta dagli svincolati di Milazzo che vincono agevolmente anche contro Castanea, prova di forza per i ragazzi di coach Trimboli e dalle retrovie continua l'escalation della basket school Messina che da quando ha ritrovato il proprio allenatore Pippo Sidoti non sta più sbagliando un colpo con la giusta determinazione, attivissima sul mercato della formazione prioritana dopo aver inserito in corso d'opera il lungo Tartamella proprio dal Piazza Armerina Capolista. E poi c'è il derby, il derby dello stretto, una partita straordinaria, una partita bellissima tra DR e Fortevo Messina. Per chi come noi arriva al palazzetto insomma l'esito della gara era scontato, DR più che incerottata che arrivava alla gara dopo la sconfitta subita contro Gravina e Fortevo Messina lanciatissima, Fortevo in secondo posto, un roster che gira a mille con magari nostra forza 41 nella gara vinta qualche ora prima contro Orsa a Barcellona. E invece il bello della parola destra è quella, la DR gioca una partita sul pezzo con scene memorabili, tant'è che il coach Lucro non fa giocare Marco Manisi che non è in grado di scendere in campo, si fa male Federico Romeo, la DR tiene botta, vola fino a più 14, problemini sugli spalti che vengono sedati dal coach della Fortevo Messina Claudio Cavaliere d'Antonio Smorto il condottiero numero uno della DR entrambi espulsi perché non potevano regarsi così vicino agli spalti anche se il loro obiettivo era soltanto di tranquillizzare gli animi e poi ne viene di fare una partita straordinaria, la Fortevo le prova tutte per portare a casa il successo, la DR con un ripepi scatenato in totale transagonistica riesce a tenere botta, sul finale si va all'overtime grazie a un canestro straordinario sul rimbalzo offensivo catturato dopo un libero magistralmente sbagliato in questo caso dal capitano Luca Laganà di Collier-Broms che manda la pratica all'overtime poi vinto grazie all'uomo che non ti aspetti, anche perché Giovanni Rugolo dalla panchina rischia, rischia tanto, rischia tutto ma manda in campo Marco Manisi che la decide con un'altra tipa bellissima che vediamo ci trasferiamo anche poi in serie D risultati importantissimi tra sabato e domenica la gioiese si conferma in vetta al sabato vincendo ebbene sul campo del canzaro orfano di Giglio, il bomber dei Baby Giallorossi, gioiese che si isola in vetta alla classifica temporaneamente affiancando la bottegliella e basket e di questo parleremo tra un attimo con Ciccio Russo come sempre in evidenza e con ottime giocate dall'altra parte del parquet per il playmaker Domenico Chiarella. Per quanto riguarda invece sempre al sabato il riscorso del Cusco Senza di Angelo Salerno si conferma squadra che può battere chiunque, può veleggiare anche nelle zone alte di classifica molto bene il rientro di Marco Grandinetti, vittoria senza una penina cardine come l'esterno Simone D'Agostino. Per quanto riguarda invece le gare della domenica colpaccio all'overtime del Bagnara che ritrova finalmente l'estro di Andrea Mollica, gioca senza il capitano Natale Surace e vince a Soverato, anche qui overtime, anche qui gara impattata dal giovanissimo promettente Paoletti, regista della formazione di Fabio Pirillo e poi successo all'overtime dove Bagnato, Mollica, Kindamo non sbagliano veramente nulla a favore del team di coach Armando Russo. E poi si è giocato il big match, quello del paracalafiore, clamorosamente a porte chiuse anche perché probabilmente, non vorrei malignare, ma probabilmente a causa degli accadimenti relativi dal pullman lesionato, distrutto, diciamo come volete, dei tifosi di Capodorlando qualcosa è cambiato. Comunicato della Questura è dall'8 di gennaio chi giocherà al paracalafiore dovrà pagare una salatissima quota rivolta verso Vigili del Fuoco e Ambulanza, 1300 euro circa. Questo vuol dire che la stragrande maggioranza delle formazioni che giocano in questo impianto dovrà dire addio a questa bellissima esperienza anche perché giocare nell'impianto del paracalafiore è sempre molto molto bello. Al momento è tutto fermo, ci attendiamo che le istituzioni sportive e non prendano una posizione. E' chiaro che si aggiungono dei costi, sia per la pala destro viola, sia per le altre realtà che giocano all'interno del max impianto reggino e ovviamente per la botteglielle basket che come letto nella nota è pronta a trasferirsi al palazzetto di archi per le prossime partite. Cosa succede invece nel big match? Lottano i biancoblu, volano avanti molto bene nel terzo quarto, ma la fisicità del pollino, la calatura del roster costruito per vincere, ottimo l'inizio del campionato di Claudio Falvo, determinante all'interno della partita, diventa utilissima per i due punti conquistati ai ragazzi di coach Isidoro Silella che si insedono in vetta della classifica insieme, proprio i biancoblu, in relazione del torneo e insieme alla cestistica gioiese. E' veramente tutto con il nostro appuntamento, non ci ritroveremo prestissimo, un caro saluto e alla prossima!